Un vasto e robusto campo di alta pressione insiste sul Mediterraneo centrale. Sul bordo settentrionale delle nostre regioni si fa sentire parzialmente l'area più fredda e continentale. In Toscana, martedì 27 dicembre, nuvoloso con addensamenti di tipo basso, più consistente in prossimità dell'Appennino. Parziali schiarite più ampie nella seconda parte della giornata al centro-sud. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali sulla costa, in prevalenza deboli variabili nell'interno. Mari mossi, temperature senza variazioni di rilievo, su valori miti per il periodo. Sul territorio provinciale cielo generalmente da coperto a nuvoloso. A Lucche sulla Piana temperatura minima 9, massima 16 gradi. A Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 9, massima 14. A Via Regge sul litorale minima 12, massima 17 gradi. Mercoledì molto nuvoloso, con possibili pioviggini. Temperature in lieve calo, ma ancora superiori alle medie del periodo.